OTTIMO LAVORO OTTIMO LAVORO L'ultima possibilità Statisticamente parlando è corretto Ma come troviamo Ladybug e San Noir? Nessuno può tenermi segreta la sua identità Ok, da una parte ci sono io Il mio addestramento e il mio essere senza armi Dall'altra un esercito di eroi superpotenti impazziti Mi sembra una lotta alla pari Non hai differenziato i rifiuti? Non hai ridato i libri alla biblioteca? Andrete in prigione! Non è quello che ci hai insegnato, signore! Ti avevo ordinato di restare in hotel! Bisogna rispettare i propri leader! Marinette Dupin Chen, New York ha bisogno di Ladybug Mi dispiace, non posso aiutarti, non la conosco Il tuo mascheramento quantico confonde elementi degli esseri umani, Ladybug Io non sono umana Cosa? Miraclonizer è techno pirate acomizzato Significa che è anche papillone a New York Non possiamo sconfiggerli senza colei che può sistemare tutto Non so se posso farcela Non riesco neanche a immaginare di essere Ladybug senza di lui A questo posso rimediare! Chanoir, New York e Ladybug hanno bisogno di te Non sono più Chanoir Errare è umano, a quanto pare I miei errori sono imperdonabili Non posso vedere la delusione nei suoi occhi Non so se posso farcela Non riesco neanche a immaginare di essere Ladybug senza di lui La tua Lady ti sta aspettando Sono felice di rivederti, Plug Non devi essere così sdolcinato Con chi stai parlando? Con il mio Kwame I Kwame non possono essere rilevati dalla tecnologia La tua amichetta robotica non può né vedermi né sentirmi Non perdiamo tempo Torniamo indietro prima che l'aereo atterri a Parigi Plug, trasformami! Alla tua amiche! Grazie per la visione!